Il Friuli Venezia Giulia resta zona gialla. La diminuzione dell'indice di contagiosità ma anche dell'occupazione delle aree mediche e dei reparti di terapia intensiva dà ragione alla giunta Fedriga. Rimangono però le limitazioni che impongono di rimanere nella propria regione d'appartenenza, il coprifuoco alle ore 22 per tutta Italia e una soglia di attenzione particolarmente alta sul fronte delle varianti del virus. Quanto alla bagarre sul passaggio delle regioni da un colore all'altro nel recente passato hanno suscitato un certo clamore le rivelazioni fatte ieri sera a Ring dal vice presidente e assessore regionale della sanità Riccardo Riccardi. Io le dico con molta sincerità perché non serve affrontare le cose dicendo mezza verità. A un certo punto quando siamo entrati in arancione avevamo dati da gialla è che quando siamo entrati in gialla avevamo dati da arancione la prima volta e questo era determinato dalla distanza della valutazione perché la valutazione tu la fai sulla base di dati di giorni di alcuni giorni precedenti alla valutazione che viene fatta su dati che tu conosci ma sono figli dei 3-4 giorni precedenti che non vengono valutati. Quindi stavamo peggiorando paradossalmente ma ci hanno messo in gialla. Il dato era chiaro. Quanto invece ai ristori arrivano quelli dedicati a sport e cultura. Dal primo marzo al 15 dello stesso mese si aprono i termini per presentare richiesta per l'attività rimaste ferme a causa del covid ed escluse dagli altri provvedimenti. Il contributo a fondo perduto è di 1500 euro per ciascun beneficiario. 3 milioni di euro messi a disposizione della regione. Tra le categorie che possono beneficiare delle sovvenzioni lavoratori autonomi, imprenditori individuali o liberi professionisti che realizzano o organizzano attività culturali o sportive o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali. I soggetti devono essere titolari di partita IVA con codice Ateco. I beneficiari devono risultare attivi alla data di presentazione della domanda e avere sede legale operativa, sede secondaria o unità locale in Friuli Venezia Giulia. Tutte le informazioni sono presenti sul sito della regione www.regione.fvg.it. Novità anche sul fronte delle vaccinazioni anti covid. La regione ha stabilito di prevedere tra le categorie prioritarie da sottoporre a vaccinazione nella fase 2 le persone con disabilità accolte nei servizi residenziali e semi residenziali.